Dopo la prima vittoria della prima giornata, il Bordeaux si ferma con un pareggio 2-2 contro i Verdoni. Un pareggio, un punto e anche un uomo partita, che è Grimoldi Roberto, il portiere del Bordeaux, votato migliore in campo per la sua squadra. Io ringrazio per questo, però voglio dire che quando si vince si perde il pareggio e il merito è un po' di tutti. A volte posso essere io, a volte il mio compagno, ma quello che conta è lo spirito di squadra e gruppo, questa squadra vedo che c'è, questo è importante. Poi ho io un altro, mi potete fare il risultato. Quindi spirito di squadra per il Bordeaux, che alla seconda giornata ha quindi 4 punti. Quali sono le aspettative per la fine del girone a questo punto? Noi vorremmo sicuramente andare nell'elite del girone, fare l'accento se puoi giocarcela, andare il più avanti possibile sapendo che è molto difficile, perché le squadre sono veramente molto fuori. Ringraziamo Grimaldi Romero. Grazie a voi.